valla guarda qua che cosa ho creato un nuovo profilo di tinder molto più bello guarda che foto che ho messo guarda che foto gecchino qua che si vede perché le ragazze piacciono i kenny poi questa qua da streamer questa poi ho messo questa qua che si vede che sono piccolo poi qua da cassamortaro poi qua normale qua faccio cagare qua di nuovo gecchino che mi limona qua per far vedere che ho per flexare il co poi ho messo guarda che descrizione guarda sono da con uno streamer di twitch 76.000 iscritti così flexo anche i numeri giustamente con una passione per l'intrattenimento e lo streaming vado signorina bea so c'è pure l'instaporn ma queste sono fake queste ma questo è fake ma questa come può essere su tinder pezzo di figa dai manuela questa qua non ce l'ha l'instaporn 27 3 chilometri 3 chilometri poco chilometri mi piace non lo so ric mi sembra falso a questa qualche meme odio la palestra bene 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 come sveglio presto va bene tanto si alza lei presto non è che mi dozza io ma da ma queste sono fake ma come che c'è una così su tinder dai ma come che c'è possibile ora qualche pezzi di fighe ma come qua non è regolare anastese a 42 anni questa la foto mi sembra un po ritoccheta e signorina vorrei dirle ma è questa già le piace camminare in montagna borgo già me lo sento e non mi porti mai a scalare a camminare a cinese a nante vive ma se vive a nante signori che che sono e non io la voglio vicino e ma questa se nasconde però raccoglitrice di latte che arriva alle ginocchia ha detto qualcuno che non alimenti la raccolta di latte no ma io sono simpatico a questa vuole andare a mare vabbè ma che vada al mare da sola basta non mi rompi i coglioni ma sono tutte fighe ma sono tu ma com'è possibile che sono tutte fighe su tinder ma io non io dico una una ogni tanto che come me è un cesso una normale perché sono tutte fregne angelica ma perché a valle ragazze piace sempre passeggiare che che cazzo ci avete da passeggiare non sono un passatempo tipo e da incontro occasionale che cazzo io mi voglio sposare ma benissimo signorina certo ecco la no ma questa la rifiuto già questa ragazza e no questa proposta neanche la guardo via via queste vuole fare sulle scogliere ma vada da sola sulle scogliere io sul divano voglio stare irene 38 relazione sedia come me al ghetti cioè lei a laureta paul dance questa s'attacca questa a marvel ma questa è perfetta per me questa rizza rizza ma chi sta inglese come 235 chilometri di distanza no guardi ma manco le manco leggo la descrizione 235 metri deve essere per me metri che col col piumino col piumone me devo me devo fidanzà scusi allora da qua capisco che te vuoi andare qua io non ci voglio andare sul sul divano sì ci voglio stare sul letto a che desidera scusi jeff e no ma io ho messo signorine scusi alla questa anche vuole scalare vado questa scala a questa invito va questa invito alle bolle funk mi piace le bolle e da me si trova qua e gliele a di le metto due chilometri poco chilometretta a che faccio che vedo le foto io in anteprima che occupando o madonna questa mi vuole far farlo serve vabbè lei va a fare serve che su andare 32 anni alice la luce l'albero il gello che come alla madonna chiaghezzine aspetta un attimo minchia porca putta maronna maronna di dio requisito minimo neuroni funzionanti noa poca restituzione mentale come narcisisti a livello esponenziale no io non sono quello gente che vive super ig e ci lavoro signorine che che so non sono qui per avere vestiti cene viaggi pagheti se avessi voluti dei soldi mi sarei iscritta su only fans due foto con la scollatura non fanno di me una persona poco seria lo so lo sta dicendo lei signorina lo sta dicendo lei io non ho detto niente cotidì maurimur ok chi per molti anni ho vissuto in quella che si può considerare la peggiore insubordinazione della nostra epoca cioè l'assenza di vita sessuale è come non ha trombè come me anche io comunque uguale ciò continua per la paura dell'abbandone perché preferisco il deserto se con madonna quando mi scoppia il cervello e rapporti masticati velocemente non mi hanno mai lasciato nulla nel fisico e non mai mi voglio sposare signorina ragazza di corpore non si riesce a capire un cazzo acciaccato e di mens non tanto sana sociopatica e misantropa vabbè questo sarà capito buon buon a tutte surf fanno ma io non ho detto che mi piace il mare surf su delle cose maggior parte l'ha detto io sono nuovo assomiglia un po un'attrice se non mi viene il nome a tu e l'ata way atta way atta way ha scritto qua scusi educatrice di sessualità è quello non ho letto quello non ho detto oh bondage o maronna du carmen primo aperitivo dedicate giovani on bon ma io non voglio menarmi poliamore non cerco unicorni per la mia coppia però le raghezzero perché dovrebbero mettersi a fare una foto così perché mi devi far vedere se si nona ce lo puoi far vedere ma vedere ma non diretta così no bella sara angless questa per amici e i derra music mi hanno capito che la feccia è un optional l'occhio l'occhio della mamma occhio della madre la follia l'occhio la madre no becco se metti ste foto io non accetto scusi non sono a checcio di marito né di fidanzato vorrei solo vedere cosa c'è fuori dalla mia buona le bolle qualche bicchiere di vino in buona compagnia un caffettino carpe diem non ho intenzione di pagare per il gold a che cazzo però è tutte che fate surf avete rotto i coglioni ma l'anno scorso l'anno scorso erano le scalate montagne per parapendio e mo quest'anno siamo su le surf fanno ecco la pure scalatrice te pareva te pareva la combo la combo scalatrice più surfista claudia 38 sono qui per conoscere persone nuove persone che magari non incontreremo in giro e io il futuro non lo prevedo quindi quello che sarà che sarà sarà quel che sarà arcatroia julia a ucraina viva torino io sono account manager in international compagnia e io ho un figlio un cane e un gatto c'è il figlio mi piace l'arte architettura psicologia mangiare learning leggere le lingue correttamente parlo italiano posso già ecco scrivo possa parlare un e a me piace e fare incontrare la gente speciale uomini e di compagnia d'amore e se e iniziare insieme con lui persone 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 che non solo amano le streghe a me non mi fa vedere quando ce è meno grosso quando quando tu è con via con insieme agli altri è divertente cosa vuoi di più dalla vita che suoi m m m signorina m come signorina m m no m no m no m no mi rievoca dei pensieri mi rievoca dei pensieri signorina m vale tanto non mi accetta lei è altra m è tutte m on bon e che cazzo beh sì ma sono m e non bevo da tre gioco a no sbaglio mi piace viaggiare la natura gli animeri la buona cucicco versato stimolendi tante altre cose se siete novax complottisti una cosa delle 100 anni fa come come scusi morgan non ho ferreto non ho ferreto scusi morgan no ma non è a categoria non lo conosco non lo conosco mi arcatro arca che è sto culo a questa a principessa troia è grazie al chezzo buon buon oh merda e chi se c'ha daniele tatueto sulla c'ha daniele tatueto sulla cosa sulla schiena e chi se destino jennifer no de no dating non appuntamenti dove la chat per la chat ma voglio nuovi amici in questa applicazione io silvia con quelli senza occhiaie non ci parlo ma se c'ho la pelle bella che cazzo se piccoletta questa che cos'è una reazione non seria si scompa veramente irregolare irregolare faccio rogazze che calze vabbè ma dai ma una così possa su tinder ma dai ma dai ma postare a due chilometri da qua una così ma non è regolare ma non ho mai visti questi pezzi di fighe bruna the world amo il mondo lo amo lo amo del il il trovato e la parte di delle onde non si che non si fermano è una poesia quindi mai mai la ma mai bellezza è per te è tutta per te il mondo lo amo i treni lì che lei cavalco essere essere la parte delle onde che non fermano vabbè che cazzo scrive la poesia ma che cazzo è la poesia ma che cazzo è la poesia in inglese che cazzo me ne frega me living in turin 168 centimetri but bellette bellissima e felice non si riesce a capire un cazzo ma non spicca però questo se sei troppo magro e più basso di me questo non mi attrava mai sono più cresso lucia wanderlust odio los filtros ma che boccia ma che zinnonata c'è questa ventisettenne magari mi vuole no che ne sai vedo un gattino gattino e mi scatta il lag mi definisco una polpetta siamo da pappo dopo tutto a chi non piacciono le pupette non fatevi ingannare dal faccino tenerino in realtà sono una scaricatrice di porta logorroica che adora il trash e i miei mimi miei mini dammi modo di attaccare bottone non smetto di parlare mi piace questa va bene per la mia età 42 ma sembra che è una 60 ma com'è possibile ma io non posso andare con queste signorine che sembra che c'hanno che sembra mia madre dai e porca puttana dai questa qua non c'ha 42 anni dai non prendiamoci per il culo dai quella ne aveva 52 ne aveva e che cos'è blonde hair occhi verdi palude mente scientifica animo volubile allora con questa signorina ah ma mi ha detto buongiorno e poi mi ha dato a fanculo però e questa mi ha gosteto ah questa è una discussione più lunga addirittura ma come non mi aveva scritto no ma come mi ha scritto no ma adesso la stavo leggendo ho detto ah siamo vicini ti va se domani ci vediamo per un no no grazie come non ho grazie scusi ma come non ho grazie ah ma qua avevo fatto pure simpatico però con un cappuccino troppo presto per uscire stavo pure scrivere avevo pure flexato dei libri ma qua avevo fatto